Il 19 febbraio, dalle ore 15, per il Centro Cittadino di Argenta, si è svolta la tradizionale sfilata di carri allegorici, organizzata dalla Polisportiva Gioco e Vita in collaborazione con Proloco, patrocinata dall'amministrazione comunale. Il 18 febbraio 2012, dalle ore 14, con partenza presso il Museo delle Valli, si è svolta l'escursione naturalistica e visita guidata alle osi Campotto, per gli amanti della fotografia naturalistica, accompagnati dal fotografo Sergio Stignani. Il 17 febbraio, alle 21, sul palco del Teatro dei Fluttuanti di Argenta, è andato in scena lo spettacolo di danza RBR Dance Company Varitas Delectad. Varitas Delectad è una citazione latina scritta da Antonio Salieri a commento del suo dramma per musica Armida del 1771, definito dal compositore legnagese di stile magico, eroico, amoroso. Per il suo programma La Storia Sei Tu, Open Media Educational, sta raccogliendo testimonianze riguardanti tutto il Novecento. Se anche tu hai qualcosa da raccontare, contatta la redazione al numero in sovrappressione 0532 318532. Il 19 febbraio 2012, alle ore 17, presso il Centro Culturale Mercato, terzo appuntamento del Caffè Letterario, promosso dall'Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Centro Artistico Argentano, presentazione del libro Quattro storie per un mulino, di Romano Sgarzi e Stedition. Lettura teatralizzata a cura di Romano Sgarzi e Monica Balestra, musica di Vincenzo Forlani e Luca Ippolito.